Stava tornando da una breve vacanza assieme alla mamma e al compagno di lei, il drammatico schianto nel viaggio di ritorno verso il Casentino, a pochi chilometri da casa. Così ha perso la vita Kasia Buscema, una giovane di soli 16 anni, morta sul colpo in uno scontro tra diversi mezzi in autosole, tra fabbro e chiusi in direzione nord, nel quale sono rimaste ferite altre tre persone. Sulle cause dello scontro, che ha provocato anche la temporanea chiusura dell'autostrada, stanno svolgendo gli accertamenti gli uomini della polizia stradale di Orvieto, intervenuti assieme mezzi di soccorso e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nel sedile posteriore, a causa del violento impatto, è sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto. Per lei non c'è stato nulla da fare, gravissima anche la mamma, che solo stamani è stata dichiarata fuori pericolo all'ospedale di Perugia, ferito anche il compagno. La ragazza frequentava il liceo scientifico di Poppi, viveva assieme alla mamma in Valle Santa. La notizia della morte della ragazza è subito rimbalzata nei comuni di Poppi e chiusi della Verna, dove oggi resta dolore e sgomento. Siamo veramente rimasti di sera scioccati da questa notizia, quando è arrivata e pensare che è una ragazzina del nostro comune. Una studentessa modello, così l'ha definita? Sì, veramente, che era brava, è stata brava sia nel percorso delle scuole comunali, ma anche nel percorso che aveva iniziato al liceo di Poppi.